La caserma della Guardia di Finanza sarà collocata nella palazzina Ater della zona Pep. La conferma arriva dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, all'indomani della visita istituzionale del vescovo Monsignor Michele Fusco, che ha dato ieri l'ultima benedizione all'edificio di piazza Garibaldi. Si attende ancora il risponso ufficiale, ma i finanzieri sono già pronti al trasloco, perché a mancare sarebbe l'agibilità statica della caserma, che resta un edificio strategico in caso di sisma o emergenza. Consentire alla compagnia di Sulmona della Guardia di Finanza di individuare una sede in città, in considerazione di un eventuale trasloco della storica caserma di piazza Garibaldi, è l'obiettivo che ci siamo posti a stretto giro. Da oltre un mese, infatti, stiamo incontrando i vertici della finanza in diverse riunioni, una alla presenza anche del prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, al fine di trovare una soluzione idonea, valutando insieme anche le varie ipotesi in caso di trasferimento imminente. Siamo in attesa, infatti, di conoscere l'esito delle verifiche tecniche e strutturali che gli esperti hanno effettuato sull'edificio. Stiamo valutando la possibilità di mettere a disposizione, per un tempo determinato, alcuni degli alloggi inutilizzati nella palazzina della zona PEP del contratto di quartiere, per una sistemazione temporanea, così da consentire agli uomini della Guardia di Finanza di poter individuare una sede definitiva nella nostra città, afferma il sindaco, spiegando che si tratterebbe di una soluzione provvisoria, un'ipotesi che andrebbe a salvaguardare una struttura che resterebbe utilizzata in parte, in attesa di un nuovo bando per l'affidamento di tutti gli alloggi a target sociali, mantenendo la sua originaria finalità di edilizia agevolata. E nostra intenzione è scongiurare che un altro presidio sia costretto a lasciare questa città, malgrado l'attuale fragilità del patrimonio pubblico cittadino causata dal sisma. Pertanto continuiamo a lavorare a fine di risolvere la situazione nel miglior modo possibile.